Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Oggi torna il video delle letture del mese, finalmente, e oggi parlerò dei libri che ho letto a febbraio e marzo, perché come sapete ho avuto un periodo in cui ho letto un po' meno, perché sono stata all'ospedale, insomma, se avete visto gli ultimi video lo sapete, e quindi questo mi ha permesso di unire le letture del mese di febbraio e di marzo, e così poi mettermi in pari. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella, in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E se non lo fate già di seguirmi su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! Il primo libro che ho letto a febbraio è stato Riconquista il tuo tempo di Andrea Giulio Dori. In realtà questo libro l'ho ascoltato con Storytel. Voi sapete che io non ho un abbonamento attivo con Storytel o Audible, però uso sempre qualche promozione, qualche codice sconto che mi arriva, che mi permette di avere uno o due mesi gratis, e quindi durante quel periodo di tempo ascolto anche diversi libri. In questo caso ho ascoltato questo libro, mi è piaciuto talmente tanto che poi l'ho anche comprato, l'ho anche acquistato. Questo è un libro, si potrebbe dire, di crescita personale, o meglio parla di produttività. Sapete che io ho cambiato un po' la mia opinione recentemente su questo mito della produttività, ma in realtà questo libro è veramente talmente interessante che ve lo consiglio anche adesso. Il libro è diviso in orari, quindi diciamo che lui divide i capitoli in base al momento della giornata che vuole analizzare e quindi cerca di dare dei consigli relativi a quelle attività che di solito si fanno in quel determinato orario. Per esempio l'orario della mattina, del risveglio, è quello che è poi il capitolo dedicato alla morning routine, quindi a come creare una morning routine adatta alle nostre esigenze. Quindi anche questo l'ho trovato sicuramente molto interessante, è un approccio innovativo. Si focalizza anche su alcune tematiche, secondo me, molto interessanti. Per esempio dà molti spunti, molti consigli pratici per riuscire a rimanere concentrati mentre stiamo svolgendo un determinato impegno, che poi è questo un po' il trucco per riuscire ad essere più produttivi. Quando ci mettiamo a fare qualcosa, a farlo concentrati senza pensare ad altro, questo ci permette non solo di avere dei risultati migliori ma anche in minor tempo. Quindi per esempio parla della tecnica del pomodoro, che ho trovato molto interessante, ma che non vi dirò qui perché così siete più curiosi di leggere anche il libro. Oppure c'è una parte proprio dedicata anche ai social, quindi non li analizza solo dal punto di vista, tra virgolette, psicologico, nel senso quale sono le tecniche che i social usano per renderci dipendenti, ma soprattutto ci spiega come venirne fuori. Perché ragazzi, se noi guardiamo i nostri cellulari, abbiamo un'applicazione o comunque la possibilità di vedere quanto tempo passiamo sui social sono ore intere della nostra giornata. Come fare quindi a ridurre questo tempo senza privarci completamente dei social, ma fare in modo che questi non si insinuino in ogni attività che facciamo? Ecco che anche questo capitolo, che è molto lungo e dedicato proprio a questo, secondo me l'autore riesce a darci dei consigli veramente molto utili. Inoltre è un libro versatile che si adatta a ogni tipo di vita, nel senso che non dà consigli soltanto per chi, per esempio, lavora da casa, perché abbiamo tutti una vita diversa, c'è chi studia, chi lavora, chi ha degli impegni, degli hobby che vuole rispettare, la palestra e così via. E quindi è in grado di, in realtà, di dare dei suggerimenti, degli spunti un po' a tutti, in modo che uno possa poi trarre dal libro quello che è più utile per se stesso e applicarlo nella sua vita. Secondo me è un libro ben fatto, chiaro, semplice, scorrevole. In più l'autore ha anche un sito che si chiama Efficacemente e che vi consiglio di visitare perché è pieno di articoli con consigli su vari argomenti, ad esempio anche come studiare meglio, oppure appunto dedicate al lavoro, alla concentrazione, eccetera. Insomma, un libro breve, interessante, utile, ve lo consiglio. Il secondo libro letto a febbraio è stato Piccole donne crescono. Ormai lo sapete, io ho questa versione enorme, vintage, della mia mamma e comunque ho letto appunto il secondo volume. Ora non lo terrò sulla mano tutto il tempo perché altrimenti mi slogo un polso. Comunque questo è il libro che ho letto. In realtà anche questo l'ho ascoltato, per metà ascoltato e per metà letto. Proprio perché visto la grandezza di questo volume non riuscivo a portarvelo sempre dietro e quindi approfittavo di qualche momento in giro anche per ascoltare questa storia. Ovviamente qui si parla sempre delle nostre sorelle March, quindi la storia praticamente riprende da dove era stata lasciata alla fine del libro Piccole donne. Chiaramente adesso le ragazze sono un po' più grandi e vediamo come la loro vita prosegue e prende delle strade particolari. Ogni sorella infatti ha una vita diversa in base anche al proprio temperamento, alle proprie ambizioni, a come sono fatte perché alla fine anche questo credo sia molto interessante. L'autrice è riuscita a delineare quattro personalità molto distinte, quattro sorelle che si adorano ma che sono anche molto diverse l'una dall'altra e nel secondo volume non tradisce i personaggi, anzi li porta a fare delle cose che effettivamente rientravano nei loro piani, nei loro sogni, nei loro desideri e appunto anche nel loro temperamento. A me questo libro è piaciuto moltissimo perché anche in questo caso ho ritrovato la bellezza di una famiglia tanto unita come quella appunto dei March e tutti quegli insegnamenti che l'autrice ci tiene sempre a lasciare in base alle varie avventure tra virgolette che le sorelle affrontano e vivono giorno per giorno e in generale insomma ci fa affezionare ancora di più a questa storia, a questa famiglia. C'è un evento tragico che se non avete letto il libro ovviamente non lo svelerò che comunque prende molto, fa commuovere, l'autrice è bravissima anche a descrivere qualcosa di così profondo e allo stesso tempo ci sono dei risvolti della storia totalmente inaspettati almeno per me quindi insomma l'ho trovata una lettura davvero appagante, molto bella. Vi dico la verità, non credo che proseguirò, la mia idea era di andare avanti e leggere tutti e quattro i libri quindi anche Piccoli Uomini e i Ragazzi di Joe però penso che per il momento non mi sento di andare avanti perché credo che questi primi due libri è come se si fosse chiuso un cerchio, la storia è questa, mi sono affezionata a quegli eventi che sono narrati in questi due libri e quindi mi sento per il momento di fermarmi poi chissà magari in futuro leggerò anche gli altri due. Comunque se non l'avete fatto e conoscete solo Piccole Donne io vi consiglio anche il secondo Piccole Donne Crescono. Il terzo libro che ho letto tra febbraio e marzo è stato Cambiare l'acqua e i fiori di Valérie Perrin, come si dovrebbe pronunciare il suo cognome perché è un'autrice francese. Allora questo libro mi è piaciuto tantissimo, talmente tanto che ho deciso di dedicare un video a questa autrice perché lei ha anche scritto un altro romanzo che ho letto e quindi vorrei parlarvi di questi due romanzi e dell'autrice in generale in un video apposito. Mi è piaciuto proprio così tanto che mi sembrerebbe riduttivo spendere due parole così in un video delle letture. Sicuramente questo vi farà capire che ve lo sarà consiglio perché è meraviglioso. In più forse il fatto di averlo letto mentre ero in ospedale, magari stavo vivendo una situazione un po' particolare e quindi mi ha toccato ancora di più la storia, i personaggi, la scrittura, tutto mi è piaciuto. Quindi insomma ci vediamo presto in un video dedicato a questo e intanto comunque se siete curiosi compratelo perché andate sul sicuro. L'ultimo libro letto nel mese di marzo è stato Gli anni della leggerezza, il primo volume della saga dei casaletti. Questo non ci crederete ma era praticamente l'ultimo romanzo che mi era rimasto in libreria da leggere. Cioè sono stata bravissima perché ho praticamente finito tutti i libri che aspettavano di essere letti. Mi sono rimasti soltanto libri di crescita personale eccetera, comunque poca cosa. In ogni caso questo era praticamente l'ultimo, ero a casa in convalescenza e quindi mi sono dedicata a questo. Anche questo l'ho per metà letto, per metà ascoltato, in questo caso con Audible perché avevo un'offerta di un mese con questa applicazione. Allora questo libro voi lo conoscerete sicuramente perché è una saga, credo sia una tetralogia oppure sono cinque volumi, non ricordo. Comunque è una saga veramente molto conosciuta, ha avuto tantissimo successo ed è stata anche molto chiacchierata, molto consigliata anche da tutti coloro che parlano di libri sui vari canali. Io purtroppo non mi trovo completamente d'accordo con queste persone perché questo è un libro che secondo me è pieno di pregi, ha un solo difetto ma questo difetto è veramente importante. La scrittura di questo libro è molto scorrevole, inoltre diciamo ci sono dei capitoli, anche se non sono dei veri e propri capitoli, più degli stacchi tra un paragrafo e l'altro, dove però si cambia anche prospettiva, quindi cambia il personaggio, molto brevi e questo chiaramente aiuta a leggere più in fretta. Inoltre i personaggi sono meravigliosi, l'autrice ha creato una famiglia molto numerosa, composta quindi da tanti personaggi, non solo questi, anzi ci sono anche dei membri della servitù di casa, ognuno di questi con una sua specifica personalità che viene mantenuta dall'inizio alla fine. Insomma credo non sia semplice definire così tanti personaggi in maniera tanto nitida, tanto realistica perché così è e soprattutto di età molto diverse perché si parte dai bambini fino ad arrivare alle persone più anziane che sono poi i capofamiglia di questa enorme famiglia. Inoltre l'ambientazione storica, bellissima, siamo subito prima dell'inizio della seconda guerra mondiale, quindi non solo la parte puramente storica, quindi come i personaggi vivono la paura della guerra, l'arrivo di Hitler, le sue decisioni e così via, che anzi vengono viste addirittura dal punto di vista sia degli adulti che dei bambini, quindi da parte di chi ha vissuto la prima guerra mondiale e chi invece vede in questo un movimento anche positivo, nella guerra, qualcosa di molto eccitante. Ecco non c'è soltanto questa parte, in realtà c'è proprio tutta l'ambientazione legata ai mestieri, ai costumi, alle usanze, il ruolo della donna nella società dell'epoca, insomma questa parte è realmente curata e lo sapete che per me la parte storica ha un grande valore e qui è fatta molto molto bene. Qual è quindi l'unico difetto che secondo me ha questo libro? Il fatto che secondo me non ci sono avvenimenti tanto importanti da farci venire voglia di andare avanti e vedere che cosa succede dopo. Molte delle scene si svolgono, direi il 99% delle scene si svolgono in questa casa di campagna dove la famiglia si ritrova ogni anno per trascorrere le vacanze estive e sì, vediamo i vari punti di vista dei personaggi, che cosa vivono, le emozioni che provano ma poi nella pratica non è che succedono grandi cose. Ho parlato di questo con voi su Instagram e molti mi hanno scritto che questa è una cosa che è vero, è presente nel primo volume, anche nel secondo ma che dal terzo volume in poi in realtà la storia prende vita e insomma siamo molto coinvolti. Però capirete che questo libro ha circa 600 pagine, se io devo leggere 1200 pagine prima di arrivare ad avere un po' d'azione non so se questo merita davvero e quindi diciamo che per il momento sono riuscita a finirlo, sono contenta di averlo finito però non so se proseguirò. Per il momento sicuramente no, magari in futuro potrebbe anche tornare insomma la voglia di rimergermi in questa storia. Fatemi sapere se l'avete letto, che cosa ne pensate perché sono molto curiosa. Bene ragazzi, il video finisce qui, questi sono i libri che ho letto tra febbraio e marzo. Fatemi sapere che cosa avete letto voi, se mi consigliate qualche nuovo libro visto che adesso dovrò andare a fare un po' di rifornimento e noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!